L'esperienza nasce nell'ambito della carita giocesana, perché nasce alla fine di un percorso di obiezione di coscienza di sei giovani ragazzi che prima di allora non si conoscevano, hanno condiviso un anno insieme come obiettivo di coscienza alternativo alla leva, quindi il servizio ci vede una volta, in Caritas. Molti di loro erano ragazzi che erano impegnati nel mondo dello scautismo, dell'azione cattolica o comunque in parrocchia. In questo anno passati insieme, in cui uno dei pilastri della Caritas è anche la vita comunitaria, quindi oltre il servizio abbiamo proprio in quel anno aperto la prima convivenza degli obiettori e quindi abbiamo vissuto anche insieme come piccola comunità, ci siamo conosciuti e abbiamo condiviso questo anno molto intenso, che per molti di noi ha cambiato la vita, anche a me personalmente, perché alla fine di quell'anno decisi insieme a questi ragazzi di fondare la formica, ma poi anche di scelsi proprio di lavorare nel sociale, cosa che faccio chiaramente a tutt'ora. E quindi alla fine di questo percorso in Caritas decidemmo di provare a fare un'impresa, un'impresa cooperativa e quindi decidemmo con l'aiuto poi del direttore, quella vuota della Caritas, Don Luigi e del responsabile degli obiettori che era il nostro responsabile, che era Agostino Pasquini, che ci consigliarono, ci mettemmo insieme, quindi noi sei partimmo con la nostra cooperativa che è appunto la formica, che oggi in questi giorni festeggia il suo quindicesimo anno. Questi sei facevano parte di un gruppo folto di obiettori, allora non erano solo in servizio civile ma erano obiettori di coscienza, siamo arrivati ad avere una trentina. Secondo me è stata un'esperienza molto bella, sia per il contributo che hanno dato ai servizi della Caritas, ma ci pensavo in questi giorni è stata una grossa scuola di vita. L'idea era quella che questa esperienza non finisse allo scadere, diciamo, dell'obbligo del servizio civile, ma si proiettasse anche nel futuro, quindi nell'impegno familiare, lavorativo e anche nel creare delle nuove prospettive. Credo che di lì è nata sia l'idea della cooperativa La Formica Prima e poi della Diapason, un'altra che è sorta successivamente. Tra l'altro noi avevamo già un servizio raccolta mobili e raccolti indumenti, c'erano i farm music, oltre al campo di lavoro missionario c'era anche un campo raccolti indumenti della Caritas. Noi l'abbiamo passato questo servizio alla cooperativa, quindi ha cominciato a dire e poi si è sviluppato anche con il rapporto col comune e con l'ente pubblico. Questi ragazzi, insieme all'idea di Don Luigi, che credo sia stata un'idea brillante di Don Luigi, hanno pensato di fondare una cooperativa sociale. Nella cooperativa sociale siamo poi entrati anche noi successivamente come magazzino di San Vito. Pietro in qualche modo lo raccomandai io a Don Luigi perché era un ragazzo estremamente coscienzioso nel fare il suo lavoro e si era creato questo filo diretto con noi, ma anche altri, anche Andrea. E quindi così, io in un colloquio, perché poi io e mio marito andavamo da Don Luigi ogni tanto a portare magari le offerte che ci avevano dato le persone che avevano preso i mobili. Così mi senti di dire è un peccato lasciare perdere questi ragazzi perché effettivamente hanno proprio questa capacità di fare questo servizio con una passione notevole. E quindi forse da lì è anche nata un pochino l'idea. E siccome tra le varie idee che avevamo c'era anche quella di dare il nome di un animale è venuto abbastanza spontaneo pensare alla formica che la formica è un animale che effettivamente è molto legato alla comunità. È un animale che, sebbene con la sua individualità, però lavora per la qualità, per tutti, per tutta la formica. Don Luigi non vuole mai così apparire oppure far vedere. Qui ha dato, sì, ci ha stimolato e quindi noi poi dopo siamo partiti. Il padre spirituale potrebbe essere lui senz'altro. Credo che la formica sia venuta proprio dall'immagine della formica, piccola ma laboriosa. Per dire che siamo una piccola realtà ma con tanta voglia di crescere, di diventare utili. All'inizio eravamo molto pieni di idee e di entusiasmo. Non sapendo bene qual era la strada che volevamo percorrere anche perché avevamo scelto comunque di fare una cooperativa sociale di tipo B che a differenza del tipo A che fa servizi per le persone, quindi social, sanitario, educativi, il tipo B fa qualsiasi servizio ma con l'impiego di persone svantaggiate. Questo tema in noi all'inizio era proprio la vera sfida nella sfida perché avevamo scelto di essere B perché volevamo essere un'impresa di lavoro e per dar lavoro alle persone più svantaggiate. Pensando anche a tutte le persone, i volte che avevamo incontrati in Caritas e che uno dei problemi che c'era quella volta e c'è oggi era il lavoro. Quindi per noi era un po' chiudere il cerchio e andare proprio sul valore di rimuovere le cause della povertà. Quindi di dire c'è questo bisogno di lavoro, mettiamoci insieme per lavorare. Avevo idea più di un gruppo e di una cooperativa. Già questo nome a me suonava strano, nel senso che ma come dobbiamo fare dei soldi? Io ero legato un po' ancora alla dimensione proprio di servizio. Una delle preoccupazioni fu questa, cioè dare a queste persone svantaggiate, inserirle, ma diciamo che fossero gratificate anche dal punto di vista dello stipendio come persone normodotate perché una persona che magari ha un handicap fisico non significa che non possa svolgere un lavoro alla pari come una persona che appunto è normodotato. Questo fu proprio un po' una caratteristica peculiare della cooperativa che si costituì, diciamo così, non per distinguersi da altre cooperative, però per dare un proprio apporto specifico. Di creare un qualcosa che fosse prima di tutto un'esperienza per noi stessi che si può lavorare, si può costruire un qualcosa in una maniera, forse anche una dimensione un po' più umana, dove diciamo la persona fosse al centro dell'attenzione, non fosse solo un numero, non fosse solo una parte dell'ingranaggio, ma fosse un protagonista dell'ingranaggio. L'idea è nata da un gruppo di amici, perché poi eravamo diventati amici e c'eravamo posti il problema di come continuare il nostro servizio in un modo concreto, che non si fermasse all'esperienza del servizio civile e quindi c'era venuta l'idea di mettere su questa cooperativa che potesse dare lavoro soprattutto a chi non aveva la possibilità, quindi le persone anche che avevamo conosciuto in Caritas e che erano escluse dal mondo del lavoro. L'idea iniziale era buona e poi per fortuna chi l'ha portata avanti è stato in grado di farla crescere. Una bella esperienza, anche perché era la fine di un anno importante di servizio civile, poi in quel momento c'era anche tutto un discorso legato all'obiezione di coscienza che adesso non c'è più, quindi motivazioni altissime, voglia di fare. Ecco, questa forse è stata un po' la carta vincente, in quel periodo eravamo sei giovani con una gran voglia non solo di fare ma di realizzare, partendo proprio dal basso, dei progetti con motivazioni alte. Ho iniziato a collaborare volentieri proprio perché dietro il progetto ho visto che davvero c'era la volontà comunque di fare del sociale che è una delle cose secondo me più belle che si possono fare. Ho visto che c'era un certo entusiasmo per questa iniziativa e al di là di tutto abbiamo sempre cercato di coniugare un po' quelli che erano gli aspetti formali legati allo statuto, legati alla formazione delle regole, legati a tutto quello che sarebbe servito alla copertina del secondo momento, ad un taglio più pragmatico per cui se da un lato si interveniva sulla forma dall'altro si parlava già anche di sostanze, per cui si parlava di conti, si parlava di numeri, si parlava di mettere in piedi delle iniziative che tenessero conto sia di quello che era la valenza sociale della cooperativa ma allo stesso tempo anche in modo molto pragmatico di fare in modo che poi queste iniziative fossero stessero in piedi dal punto di vista poi economico. Da Formica è diventata una peregina nel senso che poi ha prodotto tanto prodotto tanto in termini di azioni concrete ma anche di valori aggiunti rispetto a tutte le persone che sono state coinvolte. Abbiamo avuto fortuna nel primo anno, nel 1996 per varie ragioni con l'aiuto di Conf Cooperative abbiamo ottenuto il primo appalto nei servizi per la raccolta della carta e cartone a giugno del 1996 e da lì è nata un po' la nostra fortuna nel senso che abbiamo iniziato con questo servizio che poi è il nostro servizio più storico che è la raccolta carta e cartone nel centro storico di Rimini un servizio che tuttora facciamo, quindi un servizio che noi facciamo tutti i giorni da 15 anni, tutti i giorni lavorativi spesso anche festivi e da quello siamo partiti abbiamo avuto questa prima occasione abbiamo dimostrato che comunque la nostra organizzazione è un'organizzazione che mirava a valorizzare le persone anche svantaggiate ma anche alla qualità del servizio e da lì piano piano sono cresciuti poi tutti gli altri servizi. Diriderei un po' tre periodi della cooperativa 96 e 99 sono stati i primi anni, i primi servizi e forse è stata anche la fase dove ancora eravamo anche una piccola famiglia perché i numeri erano piccoli della cooperativa e quindi c'erano anche rapporti interpersonali molto forti e pochi soci, lavoratori e quindi un dimensionamento anche forse più facile di gestione. Poi dal 99 al 2005 farei un altro periodo ben definito in cui la cooperativa piano piano si è ingrandita come dicevo prima abbiamo preso più servizi dal 2005 abbiamo iniziato ad acquistare i mezzi quindi lì è cambiata drasticamente la nostra organizzazione se prima avevamo una flotta di 5 mezzi dal 2005 siamo passati a 20, poi a 30 poi ai 40 che abbiamo ormai oggi in quegli anni lì abbiamo privilegiato l'impresa non tanto perché ci piace essere impresa e non più cooperativa e soprattutto sociale ma perché essendo già tanti, più di 50 chi governava ha rilanciato sulla sfida nuova di comunque dimostrare che un'impresa cooperativa e sociale poteva stare ancora sul mercato prima di tutto come impresa quindi sapendo far bene i conti e gestendo bene i servizi sotto il profilo della qualità, dell'economicità e dell'efficienza poi cooperativa che è la struttura giuridica chiaramente la cooperativa vuol dire cooperare con le persone vuol dire accettare le regole democratiche della cooperazione che è i principi della porta aperta i principi di un attesto e un voto chi amministra comunque sa che ogni tre anni deve rimettere il suo mandato all'assemblea dei soci e poi il tema del sociale e quindi dell'inserimento lavorativo fondare la formica e rimanere comunque lavorando nel sociale mi ha fatto capire che questo è stata una scelta corretta l'altra scelta che a tutt'oggi dico e nel mondo in cui vivo cerco di promuovere oltre l'aspetto del sociale è l'aspetto proprio della cooperazione come modello io penso che la cooperazione sia un grande strumento come impresa perché è uno strumento che tende intanto a metterci in discussione tutti i giorni e anche il presidente l'altro aspetto secondo me bellissimo nella cooperazione anche sotto il profilo economico è l'idea di un bene comune che non è un mio bene, vi spiego meglio in 15 anni sono cresciute le mie responsabilità ho fatto crescere un'impresa che oggi come dicevo prima fattura più di 2 milioni di Euro ma quando io andrò a casa mi porterò a casa la mia pensione il mio TFR e niente di più oltre il capitale che ho versato quindi non è che lascio un'impresa per dire ai miei figli lascio un'impresa alla collettività, a una comunità uno dei principi della cooperazione è l'intergenerazionalità cioè quindi di noi lavoriamo oggi ma lavoriamo per un pezzo io adesso ho fatto un pezzo importante in questa cooperativa ma con me dei compagni ho avuto e forse qualcuno verrà dopo confrontandomi anche con altri mondi più imprenditoriali in cui ci sono famiglie che gestiscono per anni le proprie imprese con i propri figli così ecco qui è proprio l'idea di un gruppo di persone un'idea che va avanti, dei valori che camminano anche negli anni